Salve, non è possibile accettare una cosa simile, cioè ci accorgiamo che si muore ancora nei posti di lavoro per la mancanza delle applicazioni per quanto riguarda le misure di sicurezza. Questo non è qualcosa di accettabile, si esce di casa per portare a casa qualcosa da poter soddisfare le esigenze di chi sta a casa. E vedere che è frequente, che portiamo una media molto alta, addirittura di numero 3 morti bianchi al giorno, è veramente qualcosa che offende quello che è uno stato di diritto. Non è possibile vedere cadere ancora una volta una ragazza di 22 anni, una madre che naturalmente lascia il proprio figlio per andarsi a guadagnare la propria pagnotta per poter cercare di portare avanti il proprio figlio. È inaccettabile e tutti ci accorgiamo quanto, quanto ancora una volta ne cade un'altra vittima, a quota 150, poi a quota 200. Ma gli appelli servono a ben poco. Bisogna giustamente mettere in campo la questione controlli che da anni si sta denunciando, che sarebbe quella naturalmente di intensificare i controlli nei luoghi di lavoro, mettendo insieme un coordinamento che parte dal INAIL per finire alle spettorate del lavoro e automaticamente anche alle ASD che riguarda l'aspetto sanitario. Non è possibile che esistano ancora realtà lavorative che sono carenti per quanto riguarda le misure di sicurezza. Il decreto 81-2008 è un decreto oramai un poco superato. Bisogna adeguare le norme nel modo più assoluto, ma ripeto, ciò che naturalmente possa incidere per risolvere il problema delle morti sul lavoro è la questione dei controlli. E per controllo intendo dire non annunciarsi che si stanno andando a fare i controlli, ma bensì farli mirati e farli all'improvviso, senza dover avvisare i vari datori di lavoro che stanno arrivando ai controlli, come si è usato fare in questi periodi. Bisogna automaticamente che questi controlli scattino periodicamente e che vengono fatti accuratamente, ma ripeto che debba vedere un coordinamento unito che parte dall'ispettorato del lavoro, che vede unita gli ispettori dell'INAIL e quelli delle ASD. unitamente insieme bisogna verificare periodicamente se i datori di lavoro sono a norma e noi sappiamo bene che nel nostro paese tantissime industrie non sono a norma e quindi ecco qual è il prezzo che paghiamo, un prezzo molto alto, che perdiamo lavoratori e lavoratrici e in questo modo oggi veramente c'è qualcosa da farci riflettere. Una ragazza di 22 anni, madre di un bambino, che questa mattina era uscita per guadagnarsi la propria pagnotta e per portarla a casa. È veramente qualcosa che non si può accettare nel modo più assoluto. Si esce di casa e non si fa il ritorno. Quindi il mio appello in qualità di responsabile sindacale nazionale è quello naturalmente che le autorità preposte stanziano dei controlli accurati nel modo più assoluto. Non si può continuare in questo modo. Malgrado denunce, appelli e quant'altro, abbiamo imprese ma non di pochissima entità, ma tantissime imprese che non sono a norma di sicurezza. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che parte da lontano, rimane attualissima, ma purtroppo, nostro malgrado, vediamo che in tantissimi datori di lavoro non sono a norma per nessun motivo al mondo. E quindi tantissimi lavoratori e lavoratrici sono costretti ad accettare come ricatto perché hanno bisogno di lavorare, di portare quei pochi risparmi a casa perché subiscono anche lo sfruttamento in questo modo. Questa è la cosa vergognosa che c'è. Quindi il mio intervento e il mio messaggio vuole significare questo, che naturalmente si mettono in campo controlli, periodi, controlli continui, ma che debbano essere veramente accurati, ma che debbano essere sistematicamente continui e frequenti. E quelli che non rispettano le norme per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro vanno presi dei seri provvedimenti perché mettono a serio rischio l'inconumità di tantissimi lavoratori e di tante lavoratrici. Grazie e buona giornata a tutti.